Tra poco entreremo di nuovo nella Salerno Reggio, oggi 30 luglio 2016, siamo nei pressi dello trincolo di Montalto, tra poco percorreremo il tratto che va da Montalto a Torano Scalo, vedremo in direzione nord cosa succede, poco fa abbiamo percorso in direzione sud, adesso vedremo cosa succede in direzione nord, toccheremo in direzione Salerno, eccoci qua, A3, sempre più meravigliosa, sempre più bella, sempre più percorribile, aria video sorvegliata ovviamente. Eccoci qua, direzione nord, limite in posto 90 kmh, sicuramente questo video verrà bloccato in qualche paese, perché c'è il sottoponio musicale, lo lascio apposta per vedere fino a che limite di volume viene percepita la musica su YouTube, grazie comunque anche ai collaboratori che si occupano dei diritti CIA e dei brani che trasmettano le radio, dove la CIA è già pagata e bisogna ripagarla per metterla su, o almeno segnalare come fa la CIA, c'è qua. Oggi 30 luglio 2016, Salerno, Reggio Calabria, trattato, contatto, zona rascata. Sempre limite di 90 kmh, ricordiamolo sempre. Ciao, ciao. 被 Ed eccolo là il grande Fremont, il Dodge che ha buffato la Fiat, eccolo là, la sola ha scritta Fiat, una grandiosa macchina, l'ultima creazione di casa Fiat che ha sostituito la Fiat, era una macchina indegna, è molto il caro con un vecchio macchiotte, ciao Sergio e buona Svizzera anche a te, 60 milioni di euro di stipendio un anno, c'è un vecchietto vicino a casa mia, buona fortuna nella vita, tanta fortuna, non è una davvero tanta, facendo fare questi robbi di macchine a operai che lavorano come schiavi nelle nostre fabbriche, mi sa cosa penserà Fidella, quello che aveva inventato e costringito i motori delle ultime e di tanti altri prodotti della Fiat, gloriosi, e adesso andiamo avanti con Fremont come Dono Tipo, e andiamo avanti così. Soprattutto viva la lente che ci permette di dire e fare tutto quello che vogliamo, anche se sono in pochi, per ora a seguirci, ma un giorno saremo molto seguiti e questi video sono vivo, a disposizione di chiunque, anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. grazie YouTube, grazie Internet, grazie YouTube, grazie YouTube, grazie YouTube, ecco qua, qui. Aschicai, altro grande e importantissimo mezzo. Ed eccoci a un sveccolo di Torano, dove è fissato Torano Bisignano.